ciao e benvenuto da igor mancuso di remax del new style oggi ti voglio invitare ad un fantastico evento che si terrà qui al parco dei priori che è una località che si trova a metà tra civita nova e porto dei canali sabato 5 marzo dalle 11 alle 13 e 30 che cosa faremo in questo evento intanto avremo un open house dove tu potrai visitare liberamente questo fantastico cantiere e questi meravigliosi appartamenti all'interno di quell'orario quindi dalle 11 alle 13 e 30 e solo per quell'orario avremo un'offerta incredibile innanzitutto zero provvigioni per tutti gli acquirenti ma poi batteremo cinque appartamenti ad un prezzo mai visto se vuoi fare l'affare della tua vita vivendo in un luogo meraviglioso godendoti il mare arrivando la sera a casa dal lavoro e posizionandoti sulla tua terrazza con un bel drink in mano che guarda il mare bene questo è il posto che fa per te non mancare sabato dalle 11 alle 13 e 30 il 5 di marzo segnatelo sull'agenda e compila il form che trovi qui sotto lasciandoci i tuoi dati in questo modo avremo la possibilità di farti vivere una gold experience sede bambini portali perché in un posto così escono fuori di testa ciao ti aspetto grazie a tutti